Al fine di ribadire la necessità e l'urgenza che il governo prenda atto della drammatica situazione economica e sociale che la città di Reggio Calabria, così come tutta la provincia, stanno vivendo da tempo ormai, i sindacati di CGL, Cisle e Will hanno indetto per il prossimo mercoledì un sit-in che si svolgerà presso la prefettura reggina a partire dalle ore 11, insieme a lavoratori e lavoratrici provenienti da tutto il territorio provinciale. La città vedrà altresì la presenza del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, al quale le OS intendono richiedere, come si legge in un comunicato ufficiale, misure di sostegno alla crescita del reddito e al lavoro, dal finanziamento degli ammortizzatori sociali, alla salvaguardia dei settori come pesca e forestazione, all'ammodernamento del sistema ferroviario e al rilancio dell'area portuale, alla garanzia occupazionale dei lavoratori delle aziende del Comune di Reggio, dell'ATAM e dell'Eomeca. Le segreterie di CGL Cisle Will, insieme ad altre categorie sindacali, invitano pertanto il Premier a visitare lo stabilimento Reggino Omeca dell'Ansaldo Breda. Per le OS e per i lavoratori, infatti, si tratterebbe di un gesto importante che il Presidente dovrebbe compiere per prendere visione in prima persona di una delle ultime realtà produttive della Calabria, che per 50 anni è stata una delle componenti vitali dell'asse economico-industriale di Reggio Calabria e non solo, producendo treni di altissima qualità. Questa visita, concludono le organizzazioni sindacali, permetterebbe al Governo di prendere atto che esiste una realtà produttiva e di alta competenza anche al Sud, da valorizzare e da difendere. Un sito industriale di importanza strategica, non solo per la Calabria, ma per l'intero Paese.